L'Ucraina festeggia la fine della seconda guerra mondiale per la prima volta allineandosi all'Europa occidentale sulla data dell'8 maggio. Finora era stato il 9 come in Russia e finora si chiamava Grande Guerra Patriottica come in Russia e il simbolo ufficiale era Kiev come a Mosca, il nastro di San Giorgio, mentre ora è stato adottato il papavero come in Gran Bretagna e si chiama Giornata della Memoria e della Riconciliazione. Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha detto che la giornata del ricordo insieme a quella delle vittorie sul nazismo è importante anche perché oggi l'Ucraina, che è sotto attacco, conosce meglio di altri paesi il valore della pace che è durata quasi 70 anni. In Parlamento c'erano reduci della seconda guerra mondiale che avevano combattuto al fianco dei russi, reduci del movimento antisovietico e reduci del conflitto attuale nell'est del paese. Siamo preoccupati dal conflitto militare nell'est, dice un reduci della seconda guerra mondiale. Noi ci sentiamo in qualche modo vicini alle nostre forze armate ma non possiamo aiutare per via dell'età, abbiamo tutti più o meno 90 anni. Il 9 maggio, giornata della vittoria, non è stato cancellato, resta un giorno festivo ma molto ridimensionato rispetto al passato e alla giornata del ricordo. Non c'è più la parata militare, sfilano solo alcune fanfare degli eserciti europei.